ti metto il jolly vediamo se riesci ah mi sento che adesso fesco il jolly vediamo se sei una maga Q no Sofia no non è funzionato allora ancora Q Sofia ciao a tutti e benvenuti nel canale di Sofì papì e oggi che facciamo di bello oggi Sofì? oggi è l'episodio 11 ruota dei saluti e siamo tornati amici a grande richiesta con la ruota dei saluti e la pubblica Sofì papì amici sapete tutto il funzionamento della ruota dei saluti ma per i nuovi cosa bisogna fare per partecipare Sofì? scrivere i miei commenti scrivere età, città e come vi chiamate e così vi aggiungiamo nella ruota dei saluti ma chi abbiamo già salutato possono ancora scrivere sotto i commenti perché così li conserveremo per sempre ma allora Sofia per chi ancora invece non si è iscritto al nostro canale iscrivetevi attivate la campanellina mettete like per non farvi vedere nessun video e allora dai forza Sofia iniziamo con il primo giro a te l'onore primo giro dello spinnet vai Sofia vediamo che lettera salutiamo esce la lettera J vediamo ora se ci sono i nomi sì amici ci sono due nomi con la J allora uno tu e uno io Sofì vai ok Joel Albertelli 10 anni da Vaglioterme e io invece saluto Jasmine Sciarratta 10 anni dalla Sicilia ciao amici allora Sofì andiamo avanti con il secondo giro tocco te papì vai allora vado un bel giroporte vediamo che lettera esce salutiamo gli amici con la lettera R clicchiamo la R come clicchiamo? devi solo sfogliare eh non è un computer no clicchi puoi sfogliare le pagine e ti troverò la lettera R sono 5 nomi 5 amici Sofì allora inizia tu sì Raffaella 9 anni di sessa aronica Roberta 9 anni da Lecce poi Rita 7 anni da Prato Rossella 10 anni da Poggio Marino e Roberta 8 anni da Minervino amici con la lettera R vi abbiamo salutato e andiamo avanti con il terzo giro sono pronta papì e allora vai Sofì un bel giro forte vediamo questo spin quale lettera estrarrà la lettera B vediamo subito la pubblica la V è qua andiamo c'è qualcuno? sì ci sono tre nomi allora sempre inizia tu così ne leggi due e io uno Valeria 7 anni da Giuliano io saluto Valentina 9 anni di Campora San Giovanni Vera Ranuschio 10 anni e anche gli amici con la lettera V vi abbiamo salutato andiamo avanti veloce con il quarto giro papì hai visto come siamo veloci adesso con l'Arno? eh certo non perdiamo più tempo con i fogli adesso però ci vuole un jolly mi sento che questa volta esce un jolly 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 no la lettera N mi sono avvicinato ma è la lettera N ok allora lettera N qua ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 5 nomi allora inizia sempre tu però se inizi tu quando sono lì sparisci sempre un nome in più lo sai va bene allora dai saluta la prima Doemi da Bernalda di 7 anni Nunzia 9 anni da Partinico Noemi 8 anni di Riesi Nicole Padovan da Trieste Noemi Malek di 7 anni e ciao anche a voi amici con la lettera N e andiamo avanti con il quinto giro gioca a me papì vai allora Sofia il tuo ultimo giro si e poi magari c'è il sesto gioca a papì va bene vediamo un po' se ce la facciamo facciamo uscire un jolly no di nuovo la N non l'abbiamo appena detta peccato Sofia un altro poco prendevi il jolly dai chiamiamolo jolly jolly attenzione jolly jolly però Sofia era quasi vicino alla M va bene è uscito il jolly quindi che lettera scegli? dai siccome era quasi vicino alla M beh io direi la M wow prendiamo la rubrica troviamo la lettera M qua e sbagliamo ce ne sono tanti papi Melissa 8 anni da Casa Penna Manor Riaz Martina Benedetta da Romino 10 anni Marianna 8 anni da Bitonto Matilde 8 anni da Riccione poi io saluto Michelle Duscu Marta 8 anni da Milano Maria 9 anni da Monopoli ma è del nostro paese Maria prima o poi la conosceremo e l'ultimo Maria è il mi oppure il mi e con la Y finale non lo sappiamo ma vi salutiamo ciao a tutti amici con la lettera M ciao allora che dici lo facciamo il sesto giro bonus? si dai e vado Sofì vai wow quanto veloce sesto giro bonus salutiamo la M ma l'abbiamo appena salutata abbiamo sprecato un jolly Sofìa ti metto il jolly vediamo se riesci ah mi sento che adesso fesco il jolly vediamo se sei una maga Q no Sofìa no non è funzionato allora ancora Q Sofia ma che hai fatto la magia al contrario? perché l'Aera abbiamo già salutata magari ho fatto magia della Q vado Sofìa vai sesto giro vediamo se riusciamo a farlo la lettera Q no non è possibile Sofia non è possibile magari non è fortuna giro io dai prova tu allora secondo me mi hai fatto la magia al contrario mi hai fatto uscire le Q F F hai mischiato di prendere il jolly ma salutiamo gli amici con la lettera F andiamo alla F dai papi inizi tu allora dai questa volta inizio io con Francesca Romano 9 anni da Lancusi in provincia di Salerno Francesco Collasanti da Frosinone Francesca Rapisarda 7 anni da Riposto Federica 10 anni da Gela Fabiana 14 anni da Secondigliano Federico Palla 9 anni da Cagliari e abbiamo finito il sesto giro vi abbiamo salutati tutti amici appuntamento al prossimo episodio della ruota dei saluti si ma non è un video senza il finale quindi è il momento dei saluti vai Sofì iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdere nessun video mettete like e iscriveteci sui nostri social ovvero Instagram e TikTok e noi ci vediamo in un prossimo video con la rubrica ciao ciao